flash gordon creato da alex raymond nel 1934 rappresenta anch'esso come rip kirby che abbiamo visto nello scorso video un'opera cardine nel panorama del fumetto questa volta nel fumetto di fantascienza esemplificando un po l'evoluzione del medium e il suo impatto culturale nel corso del ventesimo secolo la storia editoriale di flash gordon riflette le dinamiche del mercato dei fumetti le innovazioni artistiche e le trasformazioni del gusto del pubblico delineando un percorso che va dalla sua concezione durante la grande depressione fino alla sua persistente rilevanza nel panorama culturale contemporaneo alla sua nascita flash gordon era inteso come la risposta della king features syndicate alla popolarità crescente di un altro fumetto di fantascienza dell'epoca cioè buck rogers alex raymond dotato di un talento grafico eccezionale e di una fervida immaginazione fu incaricato di sviluppare una serie che potesse competere con quella già affermata ma ciò che alex creò superò di gran lunga le aspettative elevando il genere della fantascienza a nuovi livelli sia estetici che narrativi flash gordon debuttò quindi il 7 gennaio del 1934 guadagnandosi immediatamente l'attenzione e l'ammirazione del pubblico grazie alla ricchezza e alla vividezza dei suoi disegni alla profondità dei suoi personaggi e alla complessità delle sue trame ambientata in mondi alieni esotici e popolata da creature fantastiche la serie si distingueva per il suo approccio all'avventura e alla fantascienza e mescolando elementi epici romantici e di pura azione in una narrazione avvincente che appassionava i lettori di tutte le età la trama di flash gordon narre le avventure dell'omonimo eroe che insieme alla sua compagna dei larden e al geniale scienziato hans zarkov viaggia verso il pianeta mongo per sventare i piani di conquista del malvagio imperatore ming la struttura narrativa basata sulla lotta tra il bene e il male è arricchita da elementi di fantascienza esotismo e avventura creando un mix affascinante che ha catturato l'immaginazione di milioni di lettori flash gordon si inserisce in un contesto storico segnato dalla grande depressione e dall'avvicinarsi della seconda guerra mondiale riflettendo le ansie e le speranze di un'epoca l'eroismo senza macchia di flash gordon la lotta contro un tiranno despota e la visione di un futuro tecnologicamente avanzato ma pieno di pericoli parlano direttamente al desiderio di evasione e al tempo stesso di speranza del pubblico dell'epoca la serie inoltre anticipa tematiche chiave della fantascienza successiva come l'esplorazione spaziale il contatto con civiltà aliene e la riflessione sul potere e sull'etica della scienza dal punto di vista stilistico il lavoro di raymond su flash gordon si distingue per la sua straordinaria qualità grafica il tratto distintivo del disegno di raymond risiede nella sua capacità di combinare dinamismo e realismo in modo equilibrato le scene d'azione sono rappresentate con una vivacità e un senso del movimento che trasmettono l'urgenza e l'emozione dei momenti chiave della storia allo stesso tempo raymond non trascura la precisione anatomica dei personaggi e la coerenza degli ambienti conferendo alla narrazione una credibilità visiva che immerge il lettore nell'universo di queste storie un altro aspetto fondamentale del disegno di raymond e il suo uso innovativo della luce e dell'ombra attraverso queste tecniche di chiaroscuro egli è in grado di enfatizzare la tensione drammatica delle scene di delineare i contorni dei personaggi in modo che risaltino sulla pagina e di creare profondità e volume l'influenza di raymond sul disegno nel fumetto può essere vista nella sua capacità di sintetizzare e superare le influenze artistiche del suo tempo attingendo sia alla tradizione illustrativa dell'epoca sia alle avanguardie artistiche raymond ha sviluppato uno stile personale che si pone al crocevia tra l'arte popolare e quella colta la sua opera mostra che i fumetti possono essere non solo un veicolo di intrattenimento di massa ma anche una forma d'arte capace di esplorare e sperimentare con la rappresentazione visiva dal punto di vista editoriale flash gordon rappresenta un'innovazione significativa non solo per il suo contenuto ma anche per il suo formato la decisione di pubblicare la serie come una striscia domenicale a colori permise a raymond di esplorare sfruttare al massimo le potenzialità del colore arricchendo ulteriormente il dinamismo e l'attrattiva visiva delle sue pagine questo formato insieme alla qualità del disegno e alla narrazione contribuì a consolidare la serie come un punto di riferimento del suo genere influenzando non solo altri fumetti ma anche la cinematografia e la cultura popolare in generale nel corso degli anni flash gordon ha attraversato varie fasi editoriali adattandosi ai cambiamenti del mercato e alle evoluzioni tecnologiche dopo la partenza di raymond nel 44 la serie fu affidata ad altri artisti tra cui austin briggs dan berry e molti altri che continuarono a esplorare l'universo di flash gordon mantenendo vivo lo spirito dell'opera originale pur introducendo nuove idee e adattandosi ai gusti di nuove generazioni di lettori la resistenza di flash gordon nel tempo è testimoniata dalla sua continua presenza non solo sulle pagine dei giornali ma anche attraverso adattamenti in altri media inclusi serial cinematografici serie televisive film e prodotti di merchandising questa capacità di trascendere il proprio formato originale e di rimanere culturalmente rilevante dimostra l'importanza di flash gordon non solo come opera di intrattenimento ma anche come fenomeno culturale che ha contribuito a plasmare l'immaginario collettivo riguardo al futuro all'esplorazione spaziale e all'avventura